Ciao, io resto a casa e oggi ti parlo dei pomodorini confit. Che cosa sono i pomodorini confit? Sono pomodori, piccoli ovviamente, cotti in forno con olio, sale, zucchero e spezie varie. A che cosa servono? Sono un perfetto accompagnamento per un numero veramente infinito di piatti, perché sono un insaporitore naturale perfetto. Sono quello che si dice il famoso segreto dello chef. E poi usare per gli spaghetti, con la salsa di pomodoro ma anche un sugo in bianco, per il pesce, per la carne, per molte verdure e per accompagnare dei formaggi stagionati. Insomma, praticamente sono una specie di toccasana di tutta la cucina. Impararli a fare quindi è veramente necessario ed è veramente importante. Da che cosa deriva la parola confit? La prima cosa che ti viene in mente è probabilmente il candito, perché il francese confit viene tradotto spesso con candito, ma non è la traduzione giusta in questo caso. Confit, infatti, all'origine, deriva dal verbo confire, conservare, perché si prendevano alcuni alimenti, come potrebbe essere presente nel pericordo, nel sud-ovest della Francia, l'anatra, e la si conservava nel proprio grasso. Da lì poi finiva per essere cotta al momento del consumo nel suo stesso grasso. Ed ecco che nel corso degli anni la parola confit ha cominciato a voler dire cotto nel grasso. Ed è quello che succede a questi pomodorini. Sono pomodorini non canditi, come molta gente pensa, ma cotti nel grasso, in un grasso, in questo caso l'olio d'oliva. Il primo ingrediente, ovviamente, sono dei pomodorini, che devi prendere e tagliare a metà. Poiché questa preparazione richiede un bel po' di tempo, dal punto di vista della cottura, ti conviene farne un po'. Noi adesso ne facciamo pochi, tanto per farci vedere. Ed ecco qua. li mettiamo in una piccola teglia, quindi abbiamo già preparati altri, finiamo di mettere anche questi ultimi che abbiamo tagliato. E una volta che abbiamo riempito la teglia, possiamo cominciare a condirlo. Ecco qua. Allora, per prima cosa, un po' d'olio d'oliva. abbondiamo pure perché poi quest'olio ci servirà per conservarli in un barattolo. Poi prendiamo del sale, sale fine, li saliamo normalmente. e poi dello zucchero. Va benissimo anche il normale zucchero bianco semolato. Io uso però lo zucchero integrale, lo zucchero di canna, perché mi piace un po' di più, ha un sapore leggermente caramellato che mi sembra si tia bene con questo tipo di preparazione. e non aver paura ad usarlo, perché lo zucchero fa veramente parte di questa preparazione. Non deve essere dolcissimo, ma non deve essere neanche solo salato. Poi puoi aggiungere le spezie e le erbe aromatiche che desideri. Possiamo per esempio mettere, in questo caso, un po' di origano, che fa molto mediterraneo. Ecco qua. Possiamo mettere, ovviamente, un pochino di pepe. e magari della paprika. Questa è una paprika forte per dare un tocco leggermente piccante alla preparazione. Ma, ripeto, questa è una questione in cui è il gusto che regna Sovrano. Puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi darle un tocco esotico mettendoci del curry, puoi mettere dell'aneto, puoi mettere della maggiorana fresca, puoi fare quello che vuoi. La salda, del rosmarino, tutto quello che vuoi. Una volta preparata la nostra teglia, infornate i pomodorini a 100 gradi per 3 ore. E 3 ore sono tante, in effetti. Ma, considera che a 100 gradi un forno non consuma tantissimo. Se però hai molta fretta, perché ne hai bisogno subito, perché devi fare qualcosa per la cena, o perché è un pranzo importantissimo, puoi metterli in forno a 180 gradi, in forno naturalmente preriscaldato, per 30 minuti. non sono proprio uguali, non sono proprio fatti nella maniera più classica, ma vanno benissimo lo stesso, soprattutto appunto, quando si affretta. Le nostre 3 ore sono passate, ed ecco finalmente i nostri pomodorini confit cotti, al punto giusto. Come li conservo? Il modo più semplice è quello di metterli dentro un barato, come questo. e poi li riempiamo d'olio, fino a l'olio. In questo modo possono essere tenuti fuori dal frigo, pochi giorni, massimo una settimana e mezza, ma devono essere sempre coperti dall'olio. Il frigo si conservano invece sgariate settimane. Si possono anche suggelare, si possono suggelare in questo modo, separati, e poi messi dentro una confezione o anche un sacchetto, e usati un po' alla volta, tutta la volta che si ne ha bisogno. E anche per oggi è tutto. Fate i pomodori di confit, quando avete fuori una giornata ucciosa, e non sapete proprio come passare dentro. Aspettativi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.